Oggi trattiamo un argomento molto, molto importante e interessante. Parliamo del traffico, perché fondamentalmente, ragazzi, oggi il traffico è uno degli aspetti, se vogliamo, che determinano, secondo me, il 50% delle nostre conversioni, quindi dei nostri risultati, del nostro successo online. Ciao ragazzi e benvenuti in questa diretta Funnel Action numero 47, siamo arrivati, dove parliamo delle 5 fonti di traffico fondamentali di cui abbiamo bisogno per, chiaramente, farci conoscere online, per promuoverci, per lanciare i nostri prodotti o servizi e per attrarre nuovi clienti. Quindi quali sono le nostre 5 fonti che possono essere viste anche un po' come se fossero 5 vetrine diverse della nostra attività online. Ok, e quindi, ragazzi, come dicevo, quando ragioniamo su una strategia, fondamentalmente dobbiamo focalizzarci su quelli che sono gli elementi che hanno più peso, hanno maggior peso, in modo tale da poter chiaramente fare la differenza maggiore sui risultati finali. Quindi, ragazzi, diretta Funnel Action è la diretta per chi vuole mettere in pratica. È l'appuntamento settimanale con me, Alessandro Bentivoglio, ho detto anche Funnel Machine perché qua siamo sempre sul pezzo e quindi sempre a fare funnel. Allora, il traffico, che dico sempre, no? Io mi diverto oramai probabilmente la conoscete a memoria questa battuta, ma non mi stancherò mai di farla, che non è il traffico che incontriamo per andare a lavorare, ma è il traffico che è appunto rappresentato dalle nuove persone che arrivano sui nostri funnel, sulle nostre pagine e così via. Quindi, vediamo come generare traffico e quali sono le fonti importanti per la nostra attività. La diretta Funnel Action, per chi è nuovo, chiaramente è strutturata in due parti. La prima parte dove trattiamo appunto l'argomento della puntata e poi nella seconda parte rispondo alle domande. Quindi è una parte interattiva per chi è chiaramente qui presente con noi online. Quindi, se avete domande, segnatelo oppure fatele già, così appena finisco praticamente l'argomento, vado a rispondere a tutte le domande. Che siano dubbi, domande, ostacoli che state vivendo in questo momento con la vostra strategia, con il vostro business, con il vostro marketing funnel, indipendentemente da quello che è l'argomento della puntata di oggi. Quindi, parliamo di traffico e le fonti di traffico. Cioè, perché abbiamo bisogno di più fonti di traffico? Perché uno fondamentalmente dice, ma cavolo, io non riesco a gestire neanche una fonte di traffico, magari, no? Perché dovrei aggiungere anche altre fonti di traffico? Ecco, allora, innanzitutto c'è da dire una cosa. Fonti di traffico significa anche comportamento del nostro utente. Perché diciamo che la fonte di traffico è un canale, un social network. Quindi, in questo caso, parliamo dei cinque social principali. Quali sono i cinque social principali? Abbiamo, beh, social o comunque motore di ricerca, dove abbiamo chiaramente Google, abbiamo Facebook, abbiamo LinkedIn, abbiamo Instagram e abbiamo YouTube. Ok? Queste sono le cinque fonti di traffico che, chiaramente, oggi hanno un impatto maggiore. Sono, praticamente, tra le cinque fonti di traffico, cinque canali più utilizzati nel mondo. Chiaramente, Facebook è il primo. Però, non va bene per tutti, perché Facebook, come dico sempre, allora, la differenza tra le fonti di traffico è questa. Cioè, se noi abbiamo un prodotto che le persone stanno cercando e quindi si rivolge ad un pubblico che ha un certo livello di consapevolezza, una consapevolezza alta di quello che noi stiamo offrendo. Quindi, diciamo che è anche magari in, cioè, ricercato in maniera urgenza, in maniera attiva, allora possiamo utilizzare un canale tipo Google, un motore di ricerca. Cioè, mi si rompe il bagno, devo cercare un idraulico, devo chiamare un idraulico, cerco su Google, idraulico a Roma, idraulico a Milano e così via, e quindi, fondamentalmente, io avrò una lista di tutti quei professionisti che fanno quel lavoro nella zona in cui io mi trovo in quel momento. Dopodiché, dobbiamo, chiaramente, selezionare e così via. Quindi lì il nostro lavoro sarà essere presenti per chi cerca quella cosa là. Però, che succede se, per esempio, il nostro prodotto non lo cerca nessuno? Cioè, se i clienti non sanno neanche dell'esistenza dei nostri prodotti, non sanno neanche dell'esistenza di un problema? A volte il nostro cliente non è consapevole neanche di avere un problema. E quindi, come facciamo? Dobbiamo renderlo consapevole. Dobbiamo parlare, non tanto di quello che è il nostro prodotto o servizio, ma dobbiamo parlare della soluzione, cioè, prima di tutto, del problema che lui ha. Quindi, lo dobbiamo rendere più consapevole del problema. Quindi dobbiamo sempre parlare a livelli di consapevolezza, no? Vi ricordate quali sono i livelli di consapevolezza? Problema, soluzione, prodotto. Ok? Quindi, se è consapevole del prodotto, che è la parte più piccola, diciamo, della fetta dei nostri clienti, farà una ricerca su Google e ci troverà. Se invece non è consapevole perché non sa neanche di avere un problema, allora abbiamo noi un problema, cioè, dobbiamo parlare direttamente del problema, di quello che lui magari sta cercando di ottenere con la sua attività, nella sua vita, e così via. E quindi viene qui il discorso dell'interruption marketing. Cioè, l'interruption marketing è quando noi interrompiamo le persone rispetto a quello che stanno facendo per proporgli un qualcosa, per catturare la loro attenzione. Ok? Quindi, interruption marketing è, mi trovo su Facebook, sto sfogliando tra le storie degli amici, le foto varie, divertenti, e così via, e mi arriva una pubblicità, una sponsorizzata, che mi dice, stai cercando nuovi clienti? Bene. Clicca qui per la tua attività, oppure stai cercando nuovi clienti per il tuo ristorante, perché lui magari sa già che io ho un ristorante, e così via. Allora, clicco ed entro in un percorso, entro in un funnel, e da lì, chiaramente, noi dopo faremo tutto il nostro lavoro di formazione. Sul cliente, per portarlo all'acquisto, e così via. Però, questa è la parte di conversione. Quindi, io clicco perché sono interessato e converto. Quindi, la stessa cosa vale per quanto riguarda LinkedIn, per esempio, funziona allo stesso modo. Io scorro, interrompo le persone. Oppure, YouTube, sto guardando un video e interrompo la persona mentre sta guardando un video, e gli faccio vedere un qualcosa che in quel momento voglio proporgli io. E quindi gli parlo di un problema che lui in questo momento potrebbe avere. Ok? Per cercare di attirare la sua attenzione. La stessa cosa, invece, anche su Instagram. Ok? Quindi, fondamentalmente, i motori di ricerca sono quelli che ci danno la possibilità di rivolgerci ad un pubblico consapevole, quindi del nostro prodotto o servizio, che cercano in maniera attiva. Tutti gli altri social network lavorano in maniera più ad interruzione. Chiaramente, è la maggior parte delle attività, quelle ad interruzione. Cioè, dove il nostro cliente non sa neanche di avere un problema. Ok? E quindi dobbiamo un pochino consapevolizzarlo. Senza troppo esagerare sui problemi, sui punti negativi, ma in generale anche su delle soluzioni che lo possono aiutare a stare meglio. Perché abbiamo già tanti punti di dolore nella nostra vita che è meglio non aggiungerne altri. Siete d'accordo con me su questo? Bene. Quindi, queste sono un po' le due differenze principali. Ok? Dopodiché, dobbiamo capire come funzionano i vari social. Allora, innanzitutto, questo varia molto dalla zona, dall'età, dalla tipologia di target a cui ci rivolgiamo, dal comportamento del target. E non è facile conoscerlo, capirlo. Allora, di base, quando si parte con una campagna, con una strategia online, partiamo tutti da Facebook. Si parte da Facebook perché, chiaramente, è il canale più grande, più utilizzato. Però non è l'unico, perché, chiaramente, ci sono persone che magari non hanno neanche Facebook. Oppure, vi faccio un esempio, cioè, qual è la differenza tra Instagram, Facebook e LinkedIn? Instagram è più utilizzato dalle nuove generazioni. Fondamentalmente perché? Perché non vogliono che anche i loro genitori vedano tutto quello che stanno combinando. E quindi, siccome i genitori sono su Facebook, i ragazzi vanno su un'altra piattaforma in modo tale da non avere i genitori che li seguono anche sui social. Ok? E quindi, fondamentalmente, i giovani si stanno spostando più su Instagram o piattaforme più veloci che danno anche la possibilità di essere proprio più dinamiche. Facebook, dall'altra parte, è la piattaforma più utilizzata a 360 gradi dalla maggior parte delle persone. E poi, dopo, c'è il LinkedIn che va a prendere una fascia più business. Business oriented, professionisti, aziende. Ok? Meno, diciamo, tutto il resto. Ok? E quindi, queste, diciamo, tra i tre principali social sono le fasce più importanti, le differenze più importanti. Dopodiché c'è YouTube. A YouTube, ragazzi, oggi sta per sostituire quello che è la televisione. Cioè, già i bambini di oggi, ci sono i figli di Michele, per esempio, che loro non guardano la televisione. Loro aprono l'iPad, aprono... Oppure YouTube, sai, come applicazione all'interno delle televisioni, oggi, che sono tutte smart. E lì è come se fosse TV on demand. Cioè, se tu ha a scegliere l'argomento che vuoi guardare, e non sei tu a ricevere in maniera passiva quello che è la programmazione. Ok? Quindi, questi sono un po' i canali fondamentali, principali. Quindi, si parte da uno, si parte da Facebook, per poi andare a riempire tutti gli altri. Oggi, però, ragazzi, è molto importante capire qual è la piattaforma che funziona meglio per noi. Perché magari, con lo stesso impegno, lo stesso investimento su una piattaforma, otteniamo dei risultati bassi. Da un'altra parte, magari spostandoci su un'altra piattaforma, possiamo ottenere dei risultati migliori. O comunque, cioè, innanzitutto dobbiamo capire se ci rivolgiamo a dei giovani, se ci rivolgiamo a tutti, se ci rivolgiamo ad un pubblico business. Questo, ragazzi, è chiaramente l'analisi che dobbiamo fare prima ancora di scegliere il canale. Però, il mio suggerimento è quello di utilizzare comunque più di un canale. Magari non utilizzarli tutti, perché magari il nostro pubblico, però provare a vedere quello che succede. E testare anche altri canali. Quindi, l'obiettivo è parti con uno e poi inizia a replicare quella strategia simile. Cioè, comunque, prova ad entrare anche sugli altri canali e fai delle, insomma, genera dei contatti anche lì. Per esempio, abbiamo un cliente in Spagna dove, in questo momento, Facebook funziona leggermente meno per quanto riguarda, diciamo, l'utilizzo quotidiano e funziona molto di più Instagram. Lui, praticamente, in autonomia, da solo, è un professionista. Ha creato un canale, un canale Instagram con 35.000 follower, mentre ha circa 800-900 follower sulla sua pagina Facebook. Ok? Quindi, vedete che c'è questa grande differenza. Per quanto riguarda, invece, altri mercati, chiaramente dipende sia dalla zona sia dal pubblico. e quindi, sta a noi poi cercare di capire qual è il canale più adatto per il nostro target. Ok? Quindi, questa è un po', diciamo, la panoramica. Poi, è chiaro che bisogna entrare sempre di più in profondità. Allora, una delle novità che, insomma, mi sento di portare un po' alla luce, se vogliamo, è il discorso delle community e Facebook. Perché Facebook, dall'ultimo evento che ha tenuto, praticamente, ha lanciato delle novità su quelli che sono i gruppi Facebook. Cioè, Facebook sta spostando molto di più la sua attenzione sui gruppi. Perché il gruppo crea community e la community crea una serie di persone che condividono lo stesso problema, lo stesso obiettivo, gli stessi interessi per poi raggiungere qualcosa tutti insieme. Quindi, il bello dei gruppi è che si crea community e la community è un aspetto fondamentale, ragazzi, perché la community non siamo noi. Cioè, non è un'azienda. La community è fatta dalle persone e quando è che ci accorgiamo di avere una bella community? Quando all'interno della nostra, della community che abbiamo creato, le persone interagiscono tra di loro e quindi non siamo gli unici a dare contenuto, ma c'è una sorta di scambio di contenuti. quindi c'è domanda e risposta e contribuzione da parte di tutti perché a quel punto abbiamo messo dentro delle persone selezionate che sono in linea con noi, con i nostri valori e che fondamentalmente capiscono quello di cui stiamo parlando e riescono a dare magari anche dei contributi. Contributi utili agli altri utenti mentre ricevono anche il loro valore dalla community. Ok? Quindi una volta che noi abbiamo creato la community perché ragazzi ricordatevi che il funnel non fa miracoli. Il funnel è un qualcosa che chiaramente è fondamentale per essere al centro della nostra strategia però ha bisogno di essere aiutato e per essere aiutato noi dobbiamo creare questo contorno di elementi che scaldano il nostro pubblico e lo portano ad un livello di consapevolezza tale da procedere da compiere un'azione all'interno del nostro funnel. Cioè ragazzi se noi ci rivolgiamo direttamente ad un pubblico freddo cioè io oggi apro un business apro un funnel e lo lancio su un pubblico freddo è normale che farò molta fatica all'inizio quindi vedete che anche questo è un processo che chiaramente con Facebook noi possiamo investire con YouTube noi investiamo e otteniamo subito dei nuovi contatti però più cresciamo più andiamo avanti nel tempo più noi riusciamo a creare diciamo il brand awareness più riusciamo a creare tutto quel contorno fatto da contenuti di valore gratuiti che diamo ai nostri clienti e andiamo a prendere nello specifico quelle persone lì allora vedrete che il funnel aumenterà il suo impatto e anche produrrà dei risultati con dei costi minori. Vi faccio degli esempi il nostro obiettivo ok chiaramente con i social è quello di sponsorizzare magari il nostro funnel ok sponsorizzo il mio funnel però non solo il funnel direttamente ma posso sponsorizzare anche dei contenuti gratuiti sui quali andrò a fare retargeting ecco questa è la parolina magica no? Cioè uno delle caratteristiche principali di questi strumenti è proprio la possibilità di creare dei pubblici che sono potenzialmente più interessati ai nostri prodotti o servizi quindi io faccio un video lo faccio lo sponsorizzo e posso andare a targetizzare chi ha visto il mio video e portarlo all'interno del funnel ok quindi non vado a dire così tutto il mondo fa vedere il mio funnel e portali in conversione no perché è anche quella diciamo una sorta di vendita a freddo ma vado a mostrare i miei contenuti e chi ha usufruito dei miei contenuti allora gli darò la possibilità di entrare all'interno del mio funnel quindi di convertire di inserire il proprio indirizzo email e di ricevere chiaramente altro valore rispetto a quello che io ho da offrire quindi ragazzi un aspetto fondamentale non è quello di faccio solo il funnel lo lancio via ma è creo dei contenuti e li sponsorizzo anche in termini di interazione e visualizzazioni per crearmi questo pubblico di retargeting cioè questo pubblico potenzialmente interessato alla conversione a compiere un'azione all'interno del mio funnel ok questo ragazzi chiaramente richiede richiede tempo ma è molto molto importante partire con il piede giusto e quindi avere una strategia strutturare un piano che mi permetta un piano editoriale e comunque un piano di campagne di pubblici un'organizzazione che mi permette di avere tutto questo in piedi insomma in poco tempo e che mi permetta di analizzare anche i dati perché se io ho buttato su una serie di campagne senza avere una strategia dietro ragazzi allora succede un casino mentre se io ho una strategia dopo vedete che è tutto semplice se io ho una strategia che è chiara cioè se io ho uno schema chiaro di quello che devo fare su carta sulla tovaglietta del ristorante dove volete allora riuscirò poi a mettere in pratica perché la pratica è solo un pezzetto che vi assicuro rispetto alla strategia molto molto più semplice ma poi fondamentalmente per mettere in pratica per realizzare una campagna oggi è abbastanza facile ma quello che manca cioè quello che c'è dietro a monte è la strategia cioè il perché faccio determinate cose ciao qui Alessandro Bentivoglio Funnel Machine e grazie per avermi seguito il modo migliore per avere successo nella tua vita è avere costanza ed agire per questo ti invito a seguirmi sui miei canali proprio perché condividi i miei pensieri e le mie esperienze che ti aiuteranno a sviluppare la tua strategia di funnel marketing e la tua attività in modo pratico se invece vuoi conoscermi dal vivo ti invito a scoprire quelli che sono i prossimi appuntamenti andando sul link funnelcompany.com slash eventi per scoprire tutti gli eventi che appunto realizziamo per incontrarci fisicamente con le persone grazie per avermi seguito e alla prossima